Ciao ragazze, allora prima di iniziare il video volevo assolutamente ringraziare tutte e tutte quante voi che siete venute al mio incontro a Napoli siamo tornati ieri sera da Napoli, è stata un'esperienza indimenticabile, bellissima, siete state affettosissime, eravate tantissime ci siamo abbracciate, siete state veramente la figlia del mondo, le iscritte migliori del pianeta, io lo dico sempre quindi insomma sono ancora super super emozionata e vi giuro ancora non mi sembra vero tutto quello che sta succedendo il tour, tutte queste collaborazioni, non lo so ragazze, devo ringraziare voi quindi insomma grazie grazie di cuore per sostenermi sempre siete veramente le migliori e quindi siccome ultimamente mi avete chiesto di ricreare il trucco dell'ultimo video di Miley Cyrus su Raking Ball, oggi ho deciso di fare questo tutorial che è molto naturale ma ha comunque un pochino di colore sulle labbra ma sulle ciglia finte quindi insomma è un bel trucco secondo me sia da giorno che da sera quindi vi lascio il tutorial ragazze, mega bacio a tutte quante e alla prossima, ciao! inizio con il primer e lo stendo dalla palpebra mobile fino al sopracciglio lo sfumo con le dita poi dalla Nike 2 vado a prendere il primo colore, questo opaco color carne e lo stendo sopra tutta la base quindi inizio dall'angolo interno e poi la porto sulle palpebre e sotto il sopracciglio ora prendo questo marroncino molto 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 chiaro si deve vedere a malapena quindi usatene uno veramente molto chiaro che sia appena più scuro della vostra carnagione e lo stendo nella piega vado piuttosto leggera perché voglio un effetto molto naturale porto un pochino il colore sulle ciglia inferiori poi lo sfumo ora applico le mie ciglia finte queste hanno un effetto molto naturale ma sono allunganti e sto attenta ad applicarle molto molto vicine alla linea delle mie ciglia ok, ora vado ad applicare l'eyeliner nero lungo l'attaccatura delle ciglia mi raccomando create una linea molto molto sottile poi andremo a sfumarla per renderla ancora più naturale ok, ora appunto vado a sfumare con questo pennellino molto molto sottile e anche qui non salgo troppo verso la palpebra ma tento di restare molto vicino alle ciglia ora è il turno del mascara nero e lo stendo sia sulle mie ciglia che stanno sotto quelle finte che sulle ciglia inferiori ora, visto che lei ha le sopracciglia di un paio di toni più scure rispetto ai capelli vado a scurirle con questa matita per sopracciglia che è marrone ed è appunto un po' più scura di quella che uso di solito le sue sopracciglia poi sono abbastanza dritte quindi tento di non inarcarle troppo invece di creare l'angolino appunto le faccio sembrare un pochino più dritte ora per rendere l'effetto più naturale ci passo sopra con questo pennellino e li pettino sfumando anche il colore che ci ho messo ok, lei non indossa blush ma un pelino di contouring quindi vado a stendere la mia terra anche questa non deve essere troppo scura rispetto alle vostre cannagione mi raccomando altrimenti si vedrà troppo e poi vado a sfumarla per bene ok, ora non ci resta che passare al rossetto stendo questo che è illuminante è di un bellissimo rosso acceso ma vado a stenderlo con il pennellino per labbra per creare un effetto un pochino più naturale quindi non troppo acceso e voilà il trucco è completo spero che vi piaccia come avete visto non è per niente difficile da realizzare è anche molto veloce quindi spero che vi sia piaciuto bacio grande a tutte quante e alla prossima ciao ciao